signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale normalmente agosto è il periodo in cui il canale va in ferie io faccio i video di modellismo ma quest'anno faremo qualcosa di un attimo diverso prima di tutto perché io quest'anno ne ho già parlato in altri video ma sto preparando un libro assieme a mauro longo quindi ho un sacco di lavoro da fare e non avrò il tempo di mettere a soquadro qua tutto lo studio per tirare poi l'attrezzatura da modellismo diciamo che fino a settembre sarò decisamente fin troppo impegnato ora io so benissimo che molti di voi festeggeranno all'idea che non ci siano i video di modellismo ma a me piace farli ma c'è anche una ragione più importante un paio di mesi fa oramai anche di più rispetto a quando questi video poi usciranno la comunità del master cae ha creato in maniera collettiva un'ambientazione per un paio di video chiamati il mega riassunto del mega dungeon la maggior parte dei contributi sono arrivati dagli utenti del gruppo telegram che sono riusciti a collaborare in maniera fantastica nonostante passino la maggior parte del tempo a litigare tra di loro su quale sia la migliore edizione di dungeons and dragon e dato che nessuno dice mai 3.5 sono evidentemente tutti in errore comunque dietro quella coppia di video c'è molto ma molto più materiale di quello che probabilmente potrete immaginarvi e il lavoro di sortire quel materiale per farlo diventare un'ambientazione coerente è stato anche più complesso di quello che ci si potrebbe aspettare o quindi pensato che potrebbe essere un ottimo esempio pratico per un master che voglia fare qualcosa del genere creare un'ambientazione assieme ai suoi giocatori per far vedere come il processo di creazione collettiva può avvenire nella pratica quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo con questa settimana questa mini serie estiva su come andare a creare in maniera collaborativa un'intera ambientazione per il gioco di ruolo perché passare l'estate a parlare del retroscena di un video che oramai è uscito mesi fa in effetti può sembrare un'idea strana ma buona parte del lavoro del master è quello di mettere assieme tutti i contributi creativi che arrivano dai vari giocatori al tavolo per fare in modo che tutti possano partecipare in qualcosa che è coerente però con se stesso quello che però a volte viene ignorato è che molto di questo processo sta proprio nel demolire o se volete essere tecnici decostruire tutte le varie proposte che arrivino dai giocatori e poi riassembrarle tra di loro in modo da garantire questa coerenza cioè in modo che il mondo di gioco o le situazioni di gioco che verranno poi a crearsi siano logiche e che quindi i giocatori possano avere presupposti ragionevoli su che cosa avviene intorno a loro e che cosa aspettarsi alle varie situazioni di questo nello specifico abbiamo parlato in un vecchio video ve lo lascio linkato qua in alto se dovete andarlo a recuperare quello che ho fatto io per creare il mega dungeon del canale non è un processo diverso da quello che voi come master potreste fare se dovendo iniziare una nuova quest chiedeste ai vostri giocatori di fornire ognuno qualche idea su qualcosa che gli piace o gli interesserebbe che venisse esplorato nella quest e poi vi metteste a mettere assieme queste idee per creare un mondo di gioco in cui ambientare proprio la quest per quel gruppo in modo che i giocatori si sentano coinvolti anche proprio nel processo di war building e almeno in teoria sappiano che da qualche parte là fuori nel mondo dove devono esplorare c'è qualcosa che è stato proposto da ognuno di loro l'unica reale differenza tra quello che potrebbe succedere a voi al vostro tavolo e quello che ho fatto io per la serie del mega dungeon del canale non è di tipo qualitativo ma di tipo quantitativo perché io non mi sono rivolto a quattro giocatori miei amici di cui probabilmente intuivo già le preferenze ma ho fatto questa domanda all'intera community del canale del master che è che è composta in larga parte da altri master che hanno comunque anni di esperienza di gioco alle spalle quindi non solo sono estremamente coscienti del mezzo gioco di ruolo ma sono anche padroni di quali siano le cose che gli piacciono non gli piacciono e possono focalizzare molto bene le idee in questo caso e ovviamente sono molto più di quattro giocatori questo lo dico per non farvi spaventare quello che vedrete in questa serie di video e sì molto più materiale rispetto a quello con cui voi dovrete avere poi realmente a che fare nella vostra esperienza e pensate che quando io ho proposto che si può creare un'ambientazione tutti assieme avevo pensato di dare tempo un paio di settimane in modo che ognuno trovasse il tempo per scrivere la sua proposta rileggerla inviarla ho dovuto sospendere in realtà poi l'invio di materiale dopo tre giorni perché era arrivata già fin troppa roba e se ne fosse arrivata altra semplicemente io non avrei avuto materialmente il tempo per fare un lavoro accurato su tutto rispettando poi i tempi di lavorazione del video quindi diciamo che colgo questa occasione per ringraziare non solo quelli che effettivamente hanno poi partecipato al progetto con la turbo attivo ma anche tutti quelli che gioco forza ho dovuto lasciare fuori perché se no non avrei potuto fare il progetto io nel caso voi siete interessati a replicare questo stile di world building per il vostro tavolo sappiate che molto probabilmente quello che vi toccherà fare sarà molto meno pesante e molto più semplice di quello che andremo a vedere in questi video cosa dovete fare quindi per scrivere un'ambientazione collaborativamente che raccolta le idee di tutti gli altri giocatori apparentemente la risposta sembra facile chiedere ai giocatori che cosa vogliono mettere dentro l'ambientazione ma se vi limitate a fare questo senza pensarci troppo potreste andare ad incappare in due problemi il primo di questi è quello che viene definito l'analisi paralisis praticamente quando veniamo messi di fronte a troppe scelte o a un possibile margine di scelta troppo ampio tenere a mente e valutare razionalmente troppi fattori contemporaneamente è estremamente difficile causa quindi frustrazione e può portare quindi a scartare totalmente il processo di scelta e semplicemente andare su o una estrema semplificazione ricadendo su scelte banali scelte di default mettiamola così o sul escludere totalmente il processo quindi non compiendo nessun tipo di scelta volendo parlare in parole povere se io vi dicessi di scegliere qual è la vostra pizza preferita in un menù di dieci pizze probabilmente sapreste dirmelo virtualmente immediatamente o comunque sapreste almeno dirmi quale di quelle pizze sicuramente non volete mangiare ma se io vi facessi la stessa domanda con un elenco di 100 pizze molto probabilmente la risposta che otterrei è o semplicemente qual è la pizza che normalmente ordinate quando andate in pizzeria indipendentemente se sia presente o meno su quell'elenco semplicemente perché una volta arrivata la centesima pizza vi siete dimenticati qual è la prima o che non scegliate proprio dicete qualcosa tipo ah non lo so te cosa mi consiglio roba simile vi direi di fare in prima persona l'esperimento però poi dovete pagare le pizza gli altri quindi non ve lo consiglio per quanto riguarda noi nel nostro caso dell'ambientazione collettiva se voi semplicemente vi limitaste a dire ai vostri giocatori ditemi che cosa volete vedere molto probabilmente quello che otterreste sarebbe che o i giocatori andrebbero su una scelta e default quindi probabilmente dicendo qualcosa che hanno già visto in altre quest e che gli è piaciuto ma quindi senza nessun tipo di sperimentazione innovazione o anche solo di contributo personale si limiterebbero a dire quello che ha fatto un altro master con cui hanno giocato e che hanno apprezzato o al contrario che non venga fatta la scelta e che quindi vi rispondano qualcosa del ah ma fin tanto noi ci divertiamo tutti assieme aveva bene tutto l'importante stare in compagnia o cosa del genere non è che queste non siano scelte legittime ma se il vostro scopo è quello di creare un'ambientazione collaborativa questo lo porterebbe a fallire perché o verrebbero semplicemente proposte idee già viste o non verrebbero esposte idee quindi per quanto si comunque un'ambientazione potreste crearla e comunque una quest potreste poi portarla al tavolo non si tratterebbe realmente di un'ambientazione creata in maniera collaborativa con gli altri e adesso io so che lì tra voi c'è qualcuno che sta pensando a no non è vero io sono cosciente di me stesso e so benissimo da solo cosa mi piace cosa non mi piace in effetti è vero una persona che abbia molta esperienza con il gioco di ruolo o anche solo una grande cultura letteraria cinematografica comunque conosca i troppi dei mezzi narrativi probabilmente è molto cosciente di quali sono i suoi gusti anche perché sono riflessioni che avrà già fatto in precedenza per altri motivi quindi potrebbe esprimere una scelta molto facilmente senza cadere nell'analisi paralisis questo però porterebbe al secondo potenziale problema in cui potreste imbattervi cioè che il materiale che il vostro gruppo di gioco vi fornisca non sia coerente con se stesso neanche nella forma in cui viene presentato anche in questo caso volendo fare un esempio pratico dei vostri giocatori potrebbe essercene uno che vi fornisca pagine e pagine su quella che vorrebbe fosse la situazione politica del mondo con regni che si combattono tra i loro intrighi di palazzo e cose del genere ma magari sarebbe l'unico giocatore a pensare a questi elementi un altro giocatore invece vi fornerà una lista estremamente dettagliata di regole e altre procedure di gioco che vorrebbe venire venissero applicate al tavolo per rendere migliore la narrazione il combattimento quello che è e magari un terzo giocatore ancora parlerebbe di specifici png che lui ha pensato magari già visto in altre quest che gli piacerebbe vedere riproposti con approfondimenti psicologici specifici questo paradossalmente andrebbe a semplificare il vostro lavoro dato che ognuno dei giocatori ha espresso un'idea autosufficiente all'interno di un unico specifico ambito che magari non va proprio a intersecarsi con quello e gli altri quindi da parte vostra non ci dovrebbe essere nessun lavoro di decostruzione ricostruzione semplicemente avete un elenco di cose che potete semplicemente prendere e buttare dentro la quest è praticamente come se i giocatori vi avessero fornito una scaletta delle varie cose che dovranno essere presenti nel mondo di gioco prima che voi iniziate a lavorarci e anche questo è perfettamente legittimo anzi molti gruppi di gioco di ruolo proprio durante la sessione 0 parlano anche di queste cose chiedono proprio esplicitamente ai giocatori che cosa volete o magari anche che cosa assolutamente non volete che venga rappresentato in quest di quali argomenti parlare e cose del genere quindi sì è comunque un metodo valido di creazione ma almeno per quanto riguarda l'esperimento che vogliamo fare noi sarebbe da considerarsi un fallimento perché a questo punto l'ambientazione che si sarebbe a creare non sarebbe formata da l'amalgama delle varie idee dei vari giocatori ma semplicemente da il rispetto da parte del master di una serie di punti che gli sono stati forniti ai giocatori ma poi quello che effettivamente si vedrà nel mondo di gioco sarà una rielaborazione personale del master che si è fondamentalmente fatto in solitaria per i cavoli suoi dopo che gli è stato detto entro quali paletti lavorare non abbiamo neanche ancora iniziato e già saltano fuori due cose che apparentemente sono banali ma sembra che si stiano rivelando un vero e proprio problema e poi ci si domanda perché ho dovuto dedicare un'intera serie estiva su questo argomento identificare però i possibili problemi è ovviamente il primo passo per andare a risolverli e come facciamo a risolverli semplicemente invece di dire ai giocatori che cosa preferite presentando loro una serie di domande che li costringano a ragionare entro parametri specifici e quindi ci diano la maggiore possibilità possibile di ottenere risposte utili per creare davvero un'ambientazione collaborativa nel nostro caso dato che lo scopo era quello di andare a creare un mega dungeon ho chiesto loro di indicare quale secondo loro avrebbero dovuto essere un nome un mito dietro l'origine del mega dungeon un ambiente o bioma che è possibile trovare al suo interno un luogo di interesse che faccia dal punto di riferimento per l'esplorazione una fazione che abita all'interno del dungeon o che è in qualche modo interessata adesso è un motivo per cui gli avventurieri dovrebbero andarlo a esplorare tutti questi sono elementi tipici di un'ambientazione una campagna basata sul mega dungeon abbiamo passato metà di questa stagione a spiegare perché lo sono non starò a ripeterlo adesso quindi io come master posso essere relativamente sicuro che tutte queste cose sono roba che effettivamente si rivelerà utile poi per creare la campagna per creare le singole quest e che quindi era indispensabile preparare a livello di ambientazione e dato che nel nostro caso i member gruppo telegram ma i virtuali giocatori che devono creare la campagna hanno ricevuto tutti lo stesso elenco di domande possiamo anche essere sicuri che non si incapperà né nell'analysis paralysis perché in realtà le loro scelte per quanto ampie sono state limitate a specifici argomenti e anche che non ci sia poi in coerenza tra le risposte fornite dato che le domande sono tutte le stesse quindi ognuno di loro fornirà esattamente gli stessi argomenti come risposta senza contare che in questo modo i giocatori sono stati spinti a ragionare anche su quegli argomenti che magari non sarebbe stata la prima cosa cui loro avrebbero pensato non avrò proprio pensato nella loro possibile risposta se gli fosse data la possibilità di rispondere quello che volevano questo è proprio il secondo vantaggio di porre ai giocatori una lista di domande specifiche invece di fargli fare le cose come loro ritengono meglio in quel momento proprio il fatto che dato che ognuno di loro ha dovuto riflettere sulle stesse cose e dare una risposta alle stesse domande c'è la virtuale sicurezza che per ognuno degli aspetti fondamentali dell'ambientazione ogni giocatore abbia avuto la possibilità di esporre la propria preferenza e che quindi per ognuno di questi elementi ci sarà un'ampia scelta di idee possibili da andare a decostruire e poi riformulare quindi ci sarà la più grande scelta possibile di idee tra quella che si può trovare al tavolo ovviamente dopo che ho raccolto le varie idee è arrivata quella che è la parte contemporaneamente più interessante ma anche più lunga e difficile dell'intero processo cioè quella di andare a decostruire queste idee per poi fonderle assieme creare la vera e propria ambientazione ma come ho detto all'inizio vista l'enorme mole di dati che mi sono arrivati non è qualcosa che possiamo fare questa settimana e anzi in questo primo video oltre a presentarvi il progetto mi sono volutamente concentrato solo su come acquisire i dati perché è qualcosa di importante e volevo dargli il giusto spazio mettiamola così diciamo che se voi siete interessati a creare un mondo di gioco assieme al resto del vostro tavolo questi comunque sono i principi che dovete tenere a mente se volete fare la cosa nella maniera propria senza rischiare di creare qualcosa che potrebbe benissimo essere legittimo e potrebbe benissimo venire apprezzato dai giocatori ma che nella pratica non sia qualcosa di collaborativo ma semplicemente qualcosa che è stato costruito a turni e poi rimesso assieme al master diciamo quindi che per questo video è tutto settimana prossima andremo a concentrarci proprio su l'analisi delle proposte e vedere quali sono i dati su cui mi sono basato per creare il mega dungeon collaborativo e sarà un massacro come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è avuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate anche il server di disco del gruppo di telegram dove metto io i video manualmente man mano che escono e dove poi potete trovare progetti di questo tipo che rendono la community del master che è una delle più bizzarre che potete trovare nell'ambiente del gioco di ruolo per il resto io sono il master che è e noi ci vediamo nel prossimo video